Battibecco tra Matteo Salvini e la Garfagna che era presidente di turno nell'aula. Tutto parte da una protesta del PD che ha esposto un cartello con scritto con il numero 49. 49 si riferisce ai milioni di euro che la Lega aveva fatto sparire nei tempi passati e quindi il cartello faceva riferimento a questo ma il cartello anche simbolicamente fa riferimento a tutti i cartelli che in questi giorni appaiono sui balconi delle case da sedicenti persone ostili al ministro Salvini dove tramite i balconi espongono cartelli dove non sei il benvenuto e proprio riguardo a non sei il benvenuto la deputata del Partito Democratico Alessia Rotta ha deciso di mostrare proprio un cartello in aula con scritto qui non sei il benvenuto e questo facendo proprio riferimento a uno dei cartelli apparsi sul sul balcone che poi è stato rimosso dai vigili del fuoco e che poi successivamente il sindaco del Partito Democratico aveva postato le foto su facebook dicendo chi ha tuonando chi ha autorizzato di rimuovere quello striscione quindi è questo questa bagarre in aula e Matteo Salvini risponde che risponde le testuali parole che allargando le braccia dice anche mia figlia che ha sei anni si diverte con i disegnini e la presidente della camera di turno gli dice non siamo a scuola quindi ha cercato di censurare la battuta del ministro Salvini dicendo non siamo a scuola forse riferita a tutti quanti non solo al ministro Salvini